Ciao ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Dunque come promesso vi svelo tutte le novità o comunque più che altro la programmazione non solo del canale ma anche ovviamente di tutte le mie collaborazioni che sto svolgendo in questo periodo. Cominciamo con il canale. Il canale continuerà così, quindi ci saranno nei weekend video su post partita della primavera, post partita dell'Under 23, post partita della Juventus Women e post partita della Juventus prima squadra. Chiaramente c'è sempre l'opzione, chiamiamola così, della live reaction ma lì dipende da partita a partita, soprattutto se posso e non posso farla, quindi dipende sempre da diversi fattori ma quando potrò porterò anche le live reaction. Questo è diciamo il contenuto dei video post partita. Ovviamente su per settimana, ogni settimana ci avrò dei video particolari da fare durante tutta la settimana, soprattutto in base alle notizie che girano e ne discutiamo assieme. Un altro video fisso che farò è un video al mese fisso sulla situazione della Juventus e Sport. Io praticamente prenderò i risultati, vi leggerò e racconterò i risultati della Juventus e Sport per farvi capire un po' la situazione dei ragazzi perché meritano visibilità assolutamente anche loro. Parliamo invece adesso degli impegni. Io farò due live settimanali fisse, non vuol dire che saranno le uniche mie proprio del canale. Farò, continuerò la live quella, live il punto sul settore giovanile e le women, il calcio femminile e le Juventus giovanili. Perché? Perché stanno avendo successo queste live, vedo interesse da parte vostra che le seguite e credo che sia un buon modo per portare avanti le conoscenze con il calcio femminile e il calcio giovanile. Ho avuto la fortuna di avere Gaia Brunelli, per esempio, per esempio ho avuto Fedo Bianconero, ho avuto ospite mondo calcisti, ho avuto ospite J Women e giovanili. Questa settimana ho portato un allenatore, Luca, di una squadra del Vomero, quei Vomero a Minei, quindi insomma sto portando penso anche dei buoni dei buoni ospite, ho portato a giro secondo Del Piero, insomma ho portato veramente penso anche delle belle persone da ascoltare con delle belle storie. Quella live lì rimarrà, chiaramente molto flessibile perché un po' gli impegni e dovrò gestirmi però quella rimarrà. Farò una volta a settimana una live giocando alla Play, perché la faccio giocando alla Play, magari a Rocket League ma adesso poi vediamo di volta in volta, perché semplicemente perché quando non la posso, io le live non le posso fare a casa, non sono ancora a posto con, non ho un computer per fare le live, cioè c'è un computer ma non è adatto a fare live perché salta, quindi le live devo andare a fare giù. Nel momento che io giù ho tanto occupato non posso far, non posso permettermi di andare in ufficio che magari c'è bisogno del computer per fare le live, quindi cosa faccio? Le live uso la Play giocando a Rocket League o ad altri giochi, come scusa, chiaramente voi interverrete facendo domande eccetera, io dirò il mio pensiero su un po' di argomenti, quindi mi appoggio, mi appoggio mettiamola così alla Play e alla Play 4 per cercare di, per fare una live assieme, così gioco e intanto chiacchieriamo, sarà un po' come giocare in compagnia, ecco ero già fatta, quindi basta andare a vedere come come funziona più o meno, quindi queste due cose saranno fisse, ma veniamo invece adesso alle collaborazioni, io ho due collaborazioni diciamo in atto molto molto bello e molto importante, oltre a collaborare con diversi diversi gruppi eccetera eccetera io gestisco il programma J-World su J-Tactics, quindi mi invito ovviamente tutti i venerdì, va in onda J-World, venerdì pomeriggio sul canale Spreaker di J-Tactics, J-World parla di tutto, calcio femminile, Juventus femminile, Juventus giovanili, Under 23, tutto quello che riguarda la Juve, che non sia della prima squadra, quindi ovviamente io li avrò sempre fisso, ce lo sto già avendo da praticamente questo il secondo anno, questa rubrica che credo che sia ben fatta perché dura una ventina di minuti più o meno e via discorre, è abbastanza scorrevole, rubrica che gestiamo io e presenta Francesco Musina, quindi penso che anche lui è veramente capace ed è una bravissima persona, quindi mi invito sempre a vederla, è questo J-World, c'è tutti i venerdì, il venerdì pomeriggio insomma, l'orario è flessibile ma venerdì pomeriggio sul canale Spreaker J-Tactics, se andate su Twitter e cercate Radio Meglio di Niente J-Tactics così trovate tutti i link, ci sono sempre tutte le trasmissioni e seguite anche tutti gli altri podcast loro perché è veramente interessante. Bene, e dunque adesso veniamo alla novità, alla novità principale, io adesso tutti i mercoledì avrò un mio spazio, un mio, chiamiamolo programma, che si chiama J-Family e andrà in onda sul canale YouTube J-Radio Zone, il progetto organizzato da Paco e dal Marchese Bianconero, sono contento e fortunatamente ne faccio parte perché anche questo è un bel canale fatto da persone comunque oltre che competenti veramente amici, quindi sono contento anche di questo e quindi ovviamente è anche questo un invito a iscrivervi al canale e seguirli ovunque ed è anche questo, credo che sia un altro bel progetto con varie cose, fanno anche live, quindi invece di perdere tempo a vedere trasmissioni che è realmente spazzatura, seguite questo tipo di trasmissioni che sono fatte bene e fatte da persone competenti, quindi spegnete la tv, accendete il tablet e guardate J-Radio Zone o comunque accendete Spreaker e ascoltate J-Tactics, visto che non vanno in conflitto le due cose quindi seguite tutte e due insomma e niente quindi io il mercoledì avrò il mio spazio J-Family dove praticamente racconterò anche qui tutto quello che succede, women, giovanili, women under 23, under 19, under 17, tutta la famiglia bianconera raccontata in un solo video, tutto questo come ho detto su J-Radio Zone, canale YouTube potete seguire anche sugli altri social e anche qua credo che verrà fuori qualcosa di molto molto bello anche perché Paco è molto capace e il marchese bianconero avrà 3000 difetti e si vedono tutti no vabbè scherzo, però vi assicuro che sul montaggio di video queste cose qua è veramente capace quindi seguiteli perché sono veramente bravi e credo che questo progetto sia molto molto interessante quindi riassumone prima di chiudere questo video video post partito tutti i weekend di tutte le categorie, quelle che posso fare, quelle che riesco a poter vedere video, due live alla settimana una giocando alla play quindi liberando il pc dell'ufficio che ce n'è bisogno e l'altra invece con l'ospite parlando di J-Women e J-Giovanili o comunque di mondo di calcio femminile quando c'è stata Gaia Brunelli non è che abbiamo parlato della Juve, punto abbiamo parlato della serie a femminile ovviamente quindi J-Women e Giovanili dopodiché le collaborazioni venerdì pomeriggio J-Word condotto da me e da Musina Francesco a cui saluto sempre che presenta lui e io poi faccio lo spiegone dei risultati sono sempre su Women, Giovanili eccetera tutti i venerdì pomeriggio mercoledì pomeriggio sul canale J Radio Zone del Marchese Bianconero con Paco ci sarà la mia rubrica J Family dove parlerò anche qui Women, Giovanili e sarete sempre informati su tutto il mondo bianconero quindi insomma diciamo che c'è una bella offerta di cose a tutto questo aggiungo che c'è sempre la possibilità ovviamente dovete iscrivervi al canale se non l'avete ancora fatto ma soprattutto c'è la possibilità di abbonarvi al canale abbonandovi al canale ovviamente avrete dei vantaggi che i non abbonati non hanno e detto questo a proposito vi consentirete di ringraziare e salutare Nino JFC che è il mio primo abbonato o nuovo abbonato come diceva Fabio De Luigi lui è già abbonato quindi avrà dei vantaggi che prima non aveva però anche lui è un amico seguite anche lui ovviamente queste sono le mie collaborazioni fisse diciamo sono le rubriche che porterò sempre quindi mi sembra giusto mi sembra giusto appunto elencarvele così poi potete organizzarvi se vi fa piacere potete vedere me o sentire me più volte in una settimana so che non è un bel vedere ma almeno ad esempio se non mi sopportate e non volete vedermi c'è i jword su jtatis dove parlo soltanto se invece non mi volete sentire ma vi piace la mia persona potete mettere G Radio Zone staccare l'audio e vedermi solo gesticolare non so quale delle due cose sia peggio ma nel dubbio continuate a seguirmi sia da una parte che dall'altra e ovviamente iscrivetevi al mio canale se volete abbonatevi ciao ragazzi al prossimo video quindi vi ho fatto lo spiegone adesso lo sapete da domani fino a fine stagione e anche oltre seguite ovviamente tutti questi programmi che sono gestiti principalmente cioè sono rubriche più che programmi e rubriche gestite da me ciao a tutti ragazzi al prossimo video e fino alla fine forza gioventus grazie a tutti